Sono giunti alle 18 circa di oggi due ragazzi che sono partiti dalla Germania il 29 agosto del 2020 Salvatore Spinella e Alex Ferro, in realtà erano in tre, il fratello di Alex è rimasto a balletta perché lì ha trovato lavoro di cameriere. Lo abbiamo già detto, questi ragazzi sono partiti dalla Germania circa un anno fa a piedi perché insomma avete lavorato in Germania per qualche anno, poi diciamo vi siete stufati la nostalgia è stata forte, voglio tornare ad Adrano. Salvatore ma perché si decide di tornare ad Adrano a piedi? Quanti chilometri sono, lo vogliamo ricordare? Quando siamo partiti erano 2.500 segnati sulla mappa, ma quelli che abbiamo fatto più di 4.000 comunque come abbiamo detto 250 a piedi e poi tutto il resto fatto con bici e carrelli che abbiamo ricevuto in regalo dopo che il mio ginocchio era gonfiato perché praticamente portavo quasi il mio stesso peso 55 kg di zaino, anche gli altri portavano 55 kg. La vostra volontà era quella di tornare a casa a piedi? Sì, di arrivare fino a casa nella famiglia a piedi per vedere se si può oppure viaggiare senza soldi perché ricordiamo noi siamo partiti senza soldi e grazie alle persone, soprattutto grazie al buon Dio che ci mandava queste buone persone, siamo andati avanti. Tantissima generosità avete trovato, solidarietà anche, ma questo si trova come ho detto io perché si deve essere persone per bene e civili perché l'ospitalità non si dà a tutti, giusto? Sì, questo è vero. Infatti, come diciamo noi, noi chiediamo solo quanto quella cosa ci necessitava davvero. Se chiedevamo cibo è perché avevamo fame, se chiedevamo acqua è perché avevamo sete. Ogni cosa la chiedevamo solo quando ci necessitava, quindi chiedendo, se poi uno ovviamente non ha troppe pretese ma è cibo e acqua, come si sa non si rinnega a nessuno cibo e acqua. E grazie a quello siamo andati avanti, noi con le nostre forze e le persone con le cose che ci davano. Vi ringrazio tutti con il cuore quelli che ci hanno aiutato, tutti. Come è stato il ritorno ad Adano? È una bella emozione, è una bella soddisfazione pure, è bella, è una bella sensazione. Alex, ricordiamo tuo fratello che è rimasto a Barletta, perché lui ha deciso no, andate avanti voi che io faccio il cameriere? Diciamo che lui già, i barlettani l'hanno quasi tutti accolto, tutti volere bene quindi gli avevano offerto pure il posto di lavoro e lui ha detto mi rimango qui pure per agevolare voi così arrivate molto più veloce diciamo ad Adano. Abbiamo detto che siete partiti a piedi, ma perché in Germania qualcuno ha deciso di regalarvi queste bici? Penso tutto che dipende da persone che si incontrano, specialmente che quel signore ha visto Salvo in difficoltà perché dopo 250 km a portare sempre il suo stesso peso diciamo che non è facile e quindi gli è gonfiato il ginocchio, questo signore già voleva portarci la colazione e lì ha visto Salvo zoppicare e gli ha detto che non sarebbe né ore né mai arrivato in Sicilia in quel modo in quelle condizioni e diciamo che ha avuto quest'idea di costruire questo carrellino per Salvatore mentre poi invece è uscito fuori questo capolavoro. I tuoi genitori sono rimasti in Germania, invece i genitori di Salvatore sono qui a Adano e quando tu hai detto ai tuoi genitori vado ad Adano a piedi, cosa hanno detto? Sei pazzo! E lì diciamo che io ho detto pure a mia mamma, a mio padre, cioè alla mia famiglia che visto che non ho ancora alcune responsabilità, una ragazza, una figlia, niente se non li faccio adesso quando li trovo a fare un'esperienza del genere. Va bene, salutiamo tuo papà che ci sta vedendo dalla Germania. Ciao papà, un grande abbraccio e ciao mammino, un bacione. Salvatore valeva la pena fare tutta questa strada per ritornare a Pupaesi? Sì, sì, ne valeva la pena anche per noi. Diciamo così no Adano, per noi. Ne valeva la pena perché l'esperienza che abbiamo fatto è davvero stupenda, è stata stupenda e si vedrà ora, più o meno. Ok, Salvatore per gli amici, Salvatore Marley, giusto? Sì, per il discorso dei capelli, quindi ricordare il grande Bob Marley. Un grande abbraccio a tutti quelli che ci hanno aiutato, un grande saluto di cuore. Un saluto di cuore, a tutti. Vogliamo dire solamente che siamo arrivati, Eraclio, ti aspettiamo Paese. Ciao a tutti. E Eraclio? Eraclio e Ignazio. Il fratello tuo. Il fratello mio, sì. Quindi ti aspettiamo Paese. Ciao a tutti. Ciao a tutti.